gt sport top team presenta dindo capello trophy la finale 14 piloti pronti a dare spettacolo marco impresa harris motosport fox bat cobra racing sherry 96 racing mania vale vr 46 racing monster team joe vlm virtual media racing handless gta xd francesco ccx virtual media racing greg spili motosport italy il nico 90 gt online il samu 93 old revolution msc return racing mania mi stander 90 gt online zio faggio cobra racing rock old revolution i migliori le stelle di gt sport 14 finalisti pronti a portare le ruote in pista pronti a scrivere la storia di gran turismo le semifinali disputate a monza sono state un gran successo ma per la finale ci aspettiamo una gara spettacolare proprio su questo circuito su questo asfalto dindo capello ha raggiunto l'apice del suo successo signore e signori ci troviamo sul circuito di le mans e qua dindo capello ha vinto per tre volte il titolo ha vinto la gara a 24 ore di le mans la bandiera scanchi è pronta pronunciare il nome del campione di questo importantissimo evento le audi r18 con una messa a punto perfetta sputeranno fuoco dagli scarichi e proprio su questo podio dove dindo capello ha coronato la sua carriera saliranno i tre vincitori di questa finale gli appassionati arriveranno da tutto il mondo per assistere a questo evento l'adrenalina si respira nell'aria e noi siamo già qui noi dei top team siamo qua su questo circuito in questo momento a dare spettacolo ea tenere caldo l'asfalto per voi e voi da casa preparatevi sul divano allacciate le citture sicurezza attaccatevi braccioli perché si parte piloti preparatevi perché sarà un'esperienza incredibile un evento senza precedenti e allora si accendono i motori e si entra in modalità belva qui alle mans finale dindo capello trophy giù il pedale dell'acceleratore si bruciano le gomme e tutti insieme urliamo gt sport top team